buongiorno a tutti e benvenuti nel mondo di clou oggi insieme prepareremo la pasta frolla al cacao che poi andremo ad utilizzare per creare una finta pastiera e vi spiego il perché perché all'interno al posto dei canditi ho deciso di sbriciolare dei pandistelle i biscotti pandistelle però per il momento procediamo con gli ingredienti della pasta frolla al cacao 300 g di farina 00 30 g di cacao amaro scorza grattugiata di un limone un uovo 100 g di zucchero e 200 g di burro morbido dimenticavo una bustina di vanillina come sapete io per la mia pasta frolla ho imparato ad utilizzare il burro col 50 per cento di grassi in meno ma voi utilizzate tranquillamente il vostro burro che avete in casa procediamo quindi metto insieme alla mia farina il cacao amaro la vanillina metto i miei 100 g di zucchero e inizio a mescolare questi tre ingredienti ora possiamo grattugiare la nostra buccia di limone mi raccomando ben lavato e che sia addio a questo punto mettiamo il nostro uovo tagliamo a piccoli tocchettini il burro inizialmente lavoro con un cucchiaio o con una forchetta poi proseguiamo con le mani il profumo vi assicuro che è favoloso tra la scorza del limone e il cacao la pasta frolla è favolosa e come la pasta frolla classica ha bisogno di andare a riposare in frigorifero per almeno 30 minuti e e e e e e e e e